coronavirus e imprese mentre il ministero dell'economia valuta possibili aiuti ad hoc per sostenere le imprese in affari con il gigante asiatico a milano commercialisti e fondazione italia cina radunano esperti per fare un primo bilancio laura troia la cina è bloccata e stiamo aspettando non abbiamo un general manager italiano che è lì e di volta in volta si aggiorna questo imprenditore è rientrato da shanghai il 19 gennaio il grosso problema spiega è garantire il funzionamento della catena di distribuzione con fornitori e committenti e poi ci sono i dipendenti costretti alla quarantena veniva da fuori ha avuto l'obbligo di stare in quarantena per due settimane quindi adesso lavoriamo al 50 per cento delle nostre forze si naviga a vista nel mondo imprenditoriale che lavora con la cina l'ordine dei commercialisti di milano in collegamento con l'ambasciata d'italia a pechino cerca di fare un punto l'elemento più importante sia avere delle informazioni di volta in volta il più tempestive possibile pare che il ministro dell'economia pensi anche a delle misure ad hoc per le imprese colpite credo che sia indispensabile la crisi non tocca solo la produzione ma anche i consumi il centro studi di fondazione italia cina ricorda i numeri del turismo prima dell'epidemia si contano un milione e mezzo di cinesi in italia in media milano in realtà una delle principali città per l'arrivo turisti cinesi che sicuramente sono attratti dal lusso conf commercio stima un calo del pil italiano in un anno dello 0,3 per cento siamo intorno a un calo di 250 milioni di euro al mese circa su milano come impatto che corrisponde circa a un 25 30 per cento di calo di fatturato